Dillo? Dillo! Mi chiamo Sandro e sono una cake. Ma cosa guardate? Ma lasciateli perdere questi, no? Adesso vi faccio vedere io brutti stronzi. Prima generazione crea, la seconda conserva. E la terza distrugge. Bello. Il sito della mia chiesa è pieno di minacce. Solo se non abbiamo paura possiamo essere liberi. Quello che stiamo facendo non è un sacchino da ragazzi. Te la senti di farlo? Se hai da guadagnare bene non ho paura di niente. Solo un donatore su un milione. Incompatibile. Cosa sta succedendo? Dobbiamo vendere tutto. Buonasera puttanelle. Buongiorno. Quanto mi riguarda potrebbe essere davvero un pedofilo. Vi siete appartati qua, eh piccioncini? Un'ultima possibilità. Abbiamo tutti paura. E il conforto alla nostra paura viene dalla fede negli esseri umani. 28 aprile tutti al cinema e non mancate altrimenti vi trascinerò all'inferno. Grazie. Grazie!